Il centro-destra a Lanciano si prepara alle primarie del 13 marzo, una settimana dopo, quelle programmate dal centro-sidistra. L'ex sindaco Filippo Paolini, come si sta preparando allora il centro-destra? Personalmente ho ritenuto negli ultimi mesi che le primarie sarebbero state l'unico passaggio per poter ricreare non solo entusiasmi intorno al centro-destra, ma anche per inquadrare la persona più adatta a competere alla corsa delle amministrative di giugno. C'è un comitato, del quale io non faccio parte, ma un comitato di persone con grande voglia di fare. Quindi saranno loro, poi hanno approvato il regolamento, i vertici regionali dei partiti l'hanno approvato. Questa mattina l'ingegnere Di Renzo dell'Udc, insieme ai rappresentanti di Forza Italia, dell'NCD e del Fratelli d'Italia, ha presentato questa operazione che è nuovissima, sia per Lanciano che per il centro-destra, perché le primarie del centro-destra non si sono mai fatte. Io penso che siano un momento di aggregazione importante e sicuramente avranno un ottimo successo. Sono stati annunciati dei ritorni in campo, come l'ex sindaco Nicola Fosco, candidato con Fratelli d'Italia, le primarie del centro-destra. L'ex sindaco Filippo Polini, che intenzioni ha? No, personalmente non è che non ho voluto partecipare alle primarie. Ritengo di non candidarmi perché ho fatto già il sindaco dieci anni. Penso che è giusto che ci siano altre professionalità che provino a gestire la nostra città. A me questi ritorni dal futuro non mi sono mai piaciuti. Se ci sarà occasione di contribuire sempre nell'interesse della città, con l'esperienza mia e dei tanti amici con i quali abbiamo lavorato, benvenga. Ma la carica del primo cittadino è giusto che ci siano altre persone a provarci. Guardando sempre al centro-destra, come vede questa lista civica promossa dal suo ex vice sindaco Armando Bozza e Tonia Paolucci? Io ho avuto occasione di parlare con la Paolucci, che è la figlia di un mio carissimo amico, che ricordo sempre con affetto. È stato tra l'altro vice sindaco e amico anche personale. Personalmente l'ho invitata, a questo punto approfitto anche della vostra emittente per invitarla di nuovo a partecipare alle primarie, perché questo sistema elettorale, secondo me, a chi corre da solo non dà molte possibilità di vincere. Invece, partecipando alle primarie e vincendole, con uno schieramento dietro alle spalle, si hanno grandi possibilità di poter competere per la vittoria finale. Io mi auguro che loro, dal loro interno, sappiano leggere questo invito, come un invito fatto da persone che vorrebbero che si cambiasse, che non si facessero quelle piccole gelosie della politica, tornassero in campo come nel passato.